Questa casa è da fastidio tenerla vuota. L'altra inquilina ha vissuto qui sempre da sola? Posso baciare la sposa? La ragazza viveva qui con il suo fidanzato. Non capisco perché se ne sia andata. Sono tempi duri per tutti. Ma io non capisco perché non vogliate farvi aiutare da qualcuno. Da soli non si va da nessuna parte. Se non riesco a pagare io lascio la casa. Il problema è che mi fa bene. Comunque non si preoccupi, non ho bisogno della carità di nessuno. Chissà cosa si capiva che glielo avrei chiesto in cambio. Tutti vogliono qualcosa in cambio. Che t'ha fatto quella donna? Niente, non mi ha fatto niente. Hai intenzione di continuare a raccontare stronzata? Ah, ho capito. Amore! Lei entra nelle case e si porta via delle storie. Ma questa tua decisione è una patetica stronzata. Questo lo faccio per te. Per favore, non lo fare. Era questo quello che volevi? Io non volevo niente da lei. Perché è così difficile da credere, eh?